Correttezza, trasparenza e mediazione. Questi tre punti cardine dell'attività giornalistica di ufficio stampa secondo Giovanni Grasso, il portavoce del Presidente della Repubblica. L'importanza di questa figura professionale, che si è affermata nel tempo, è stata ribadita a margine dell'ultima lezione del corso di comunicazione istituzionale, che si è tenuta nella storica cornice del Palazzo del Quirinale ai praticanti del Master in Giornalismo della Lumsa. Sicuramente il bisogno di comunicare sarà sempre più forte, così come è stato. Pensate soltanto che addirittura i ministeri all'inizio della Repubblica non avevano i portavoce, non avevano gli uffici stampa, magari avevano una persona sola, che adesso ogni struttura pubblica e privata, aziende, hanno bisogno di uffici comunicazione. Un'attività inoltre in continua evoluzione. I social media hanno rivoluzionato completamente il modo di comunicare, che è un modo più diretto. Un mestiere di mediazione tra i giornalisti e il committente. Il compito di un comunicatore è di amplificare, di diffondere, ecco meglio di diffondere, questo suo modo di essere.